Fare un'operazione verità all'interno delle amministrazioni pubbliche riconquistando una fiducia dei cittadini che ovviamente in questo momento viene meno e nello stesso tempo applicare quello che è già stato fatto, che già c'è, cioè i decreti attuativi del federalismo fiscale che prevedono da una parte la incandidabilità di quei governatori o sindaci che sprecano e dall'altra parte il passaggio della spesa storica ai costi standard che significa in termini di PIL un risparmio di quasi un punto percentuale. Grazie a tutti.